Io sono Roberto Montagna, in questo momento sono il presidente dell'IPS da poco. Il mio vissuto è un vissuto fatto da gente di commercio, da capo area, da direttore commerciale. Ho avuto due locali, ristoranti e bar e via poi per vicissitudini varie. Mi sono trovato in una situazione critica e adesso stiamo cercando di recuperare tutto quello che è possibile, recuperare via, anche con l'aiuto dell'associazione, e vediamo di riuscire a venirne fuori. No, la procedura dei dormitori non è assolutamente facile, poi uno si adegua per forza di cose perché le regole sono quelle. A volte si trovano operatori molto in gamba e ce ne sono con cui io sono anche diventato amico di molti di loro. Altri che magari così lo fanno solo per lo stipendio, oppure non hanno l'esperienza necessaria per poter gestire delle situazioni del genere. Potrebbe essere una cosa interessante prendere un dormitorio e farlo gestire da dei senza fissa dimora o ex senza fissa dimora. Lì devi sempre fare attenzione perché purtroppo non sai che hai intorno, non conosci nessuno, cioè man mano li vedi quando sei dentro, ma però devi fare attenzione a portafoglio, cellulare, documenti, devi fare attenzione a tutto. E quindi a volte succedono anche degli scontri, quindi magari ci sono delle espulsioni o cose del genere.